Mia? Buongiorno. I vasi come gabbie. Questo che ci troviamo è il ficus da me battezzato regina Margherita. È uno fra i ficus più grandi che ci sia a mio avviso a Catania e ci troviamo alla villa Bellini, ingresso la piazza Roma. La visione di un metro quadrato di bosco è semplice. Molti alberi, molti arbusti risiedono in vasi per le strade. Il comune, tutti i comuni di tutta Italia hanno avuto in donazione questi alberi da privati. In donazione perché per mettere un albero in strada andava fatta la domanda di donazione per non pagare il suolo pubblico. Quindi molti alberi, oramai alcuni di dieci anni, alcuni di quindici, risiedono in questi vasi. E come vedete l'apparato radicale di un ficus? È incredibile. Sono delle opere viventi, dei prodigi. Io questo l'ho chiamato regina Margherita perché le radici di questo ficus, pensate, che arrivino fino in via regina Margherita. Il vaso diventa una gabbia in questo caso. Quindi un metro quadrato di bosco è quello di, da parte delle istituzioni pubbliche, di andare a prendere questi alberi che già appartengono al comune e trasferirli in terreni adeguati, che non mancano, per un progetto di rimboschimento globale. Tolti questi alberi, ne vasi, mettere aromatiche. Si creerebbe un'aromaterapia all'interno della città, rendendo l'ossigeno più salubre e senza dubbio si darebbe una libertà a questi alberi che purtroppo, mi dispiace dirlo, sono in gabbia. Buona giornata.